Un sit-in davanti all'ambulatorio di ginecologia dell'ospedale San Salvatore da parte di fuori genere appoggiato dalla Conferenza delle Democratiche per chiedere l'immediata rapertura dell'ambulatorio per l'aborto farmacologico. La conferenza ricorda che il diritto all'interruzione di gravidanza è sancito da una legge e da normative sovranazionali europee. Nelle prime nove settimane è possibile infatti richiedere la somministrazione della pillola RU486 che consente l'aborto in sicurezza e senza ospedalizzazione. Una procedura che nel 2023 è arrivata anche all'Aquila grazie a ginecologi non obiettori. Negli ultimi mesi però nel nosocomio Aquilano l'ambulatorio è stato chiuso e il servizio sospeso dunque le donne che ne hanno bisogno devono recarsi ad Avezzano. Da parte della conferenza c'è stato l'appello rivolto a tutta la città a farsi sentire perché questa legge viene messa in continuo pericolo al loro giudizio da alcuni orientamenti politici e religiosi che tendono a criminalizzare l'aborto. Il primario che poi ha preso il suo anno sabbatico è stato sostituito dal professor Di Stefano che ha pensato bene di interrompere a quattro mesi dal suo inserimento di interrompere questo servizio. Ha dato delle motivazioni alla nostra lettera aperta, ha dato delle motivazioni che ci sembrano un po' deboli parlando di mancanza di personale, mancanza di fondi. Ci sembra importante che in un presidio come quello dell'Aquila venga mantenuto. È rimasta l'interruzione chirurgica e ci chiediamo per quale motivo non ci sia la possibilità o la voglia probabilmente di attivare e mantenere questo servizio. Le donne dall'Aquila devono spostarsi quindi ad Avezzano che è il presidio più vicino. Sappiamo anche che l'ospedale di Avezzano ovviamente viene gravato da questo dirottamento di servizi. Quindi ecco il nostro intento è prima di tutto capire quali sono le motivazioni vere, reali, senza addurre giustificazioni appunto deboli e abbastanza sconcertanti e poi che venga riattivato un servizio.